mi chiamo rita sono nata al primo maggio 1986 sotto il segno di chernobyl pronto buongiorno l'elettricità sì devo pagare e così eccomi qua chiusa in casa santa rita delle cose impossibili che sei sempre con me aiutami tu a pagare l'affitto le bollette e tutto il resto e se dovrò peccare peccherò ciao sono franco dimmi che ti manco ma sì va bene ho trovato un lavoretto una cosa al computer sì è come una specie di call center più li tengo in linea e più guadagno sono renato e mi sono innamorato siamo sono in spiaggia e così ci viene voglia di metterci in e allora perché non mi hai detto che ti chiami rita brucia tutto dentro ti ho messo nei casini diranno la troviamo una soluzione rita vuoi Grazie a tutti